I risultati ora sono definitivi, un commento a caldo di Raimondo Donzelli. Quali cinque anni si prospettano adesso? Intanto la cosa positiva è che il vento del cambiamento in Valle d'Osta non si è fermato, anzi si è concretizzato. C'è una coalizione credibile che sta crescendo e che ha ridimensionato l'altra che ha governato male. Sicuramente adesso l'Unione Valdotena e la Stella Alpina dovranno fare i conti con un'opposizione molto più credibile e speriamo che da subito si parta con provvedimenti sul lavoro e provvedimenti che riguardano la riduzione dei costi della politica. Se non verranno fatte queste cose penso che ci saranno grossi problemi di governabilità in Valle d'Osta. Secondo lei queste moraggie di voti di federazione, di PDL che sono scomparsi dove sono confluiti? Sicuramente hanno rafforzato l'Unione Valdotena e la Stella Alpina perché i voti si sono spostati dall'Unione Valdotena verso l'UVP e quindi questo è un po' il disegno così, la prima analisi che si può fare. La cosa importante per noi è che grazie al nostro radicamento territoriale e al fatto che tutta la sinistra sia unita e ci ha dato una mano, noi abbiamo un risultato positivo e con noi torna in Consiglio regionale tutta la sinistra valdostana. Questo è un dato molto importante su cui dovremo continuare a lavorare.